Eccolo qua, pronto? Pronto! Pronto, salve! Sera! Ciao, che cosa... Sei su Tinder! Senza altro consenso sei venuto su Tinder! Ah, bene, ciao Jumbo! Ciao, è un piacere! Questa è la nostra prima collaborazione! Ah, ma io non vi vedo, non vi vedo! Come non ci vedi? Ah, no, su Discord! No, ci vedi direttamente dalla live se vuoi! Ah, vedo solo a Lilla! Lilla, con una L però sì! Anche Lilla, anche Lilla è un bel nome, anche Lilla è un bel nome! Ok! Hai un po' di tempo per presentarti e se vuoi conquistarla, se no... Se no, no! Ah, ok, allora no! Ok! No, sto scherzando, sto scherzando! Conquistatelo! Dai, stai al gioco e presentati un attimo! Sì, ma assolutamente! Ciao, mi chiamo... mi chiamo Fran... Simone, dipende da come vuoi chiamarmi tu! Ok, Simone! Sono un ragazzo molto timido, mi piace la scuola, infatti ho 19 anni e l'ho finita l'anno scorso, però ho deciso di rifarla, perché comunque mi piace rifare le esperienze che mi hanno comunque in qualche modo colpito. Ma ripartendo dalla prima o un altro anno di quinto? No, non so, ho proprio ripartito dalla prima, infatti sono poi il sport migliore. Nella vita mi piacciono tanto gli sport, soprattutto quelli di squadra, come il tennis, il golf, insomma... Sono una persona che ha tanti sport, che comunque va in qualche modo a unire nella sua sfera emotiva. E mi piacciono i gormiti, ne ho una collezione a casa abbastanza importante, qua... Ne tengo una marea... Ma cos'è? È un seconda edizione o sbaglio, quello? Sì, 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 beh, poi vai a capire che edizione siano... a me piace proprio che sia un gormito. L'altro li hanno peggiorati un sacco, eh, non so se... secondo me, le prime edizioni erano i migliori. I gormiti quelli nuovi no, quelli vecchi però ho veramente una collezione infinita. L'ultimo l'ho pagato tipo 100 euro, cioè una cosa... mi piace molto questo tipo di acquisto. Insomma, sono gay, non saprei cos'altro dire, se vuoi farmi tu delle domande. Lila, hai qualche curiosità nei confronti del nostro ospite Simone? O Franco, o Gianni? Che musica ascolti? Che musica ascolto? Hardcore, musica di cadaveri, musica proprio che mi colpisce, musica proprio quella che non riesci a dormire da quanto sono forti le percussioni, quella proprio che ti stoned. E anche la tua stessa musica magari ascolti, o... o non l'ascolti quella? Eh, con chi stai parlando? No, con te, con te. No, Lila non fa musica. Ah, ah, sì, 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 no, ma io ascolto tutto. Cioè, sono proprio di persona che la musica la vede un po'... Io ho anche un tatuaggio, ecco, se magari volevi chiedermi sui tatuaggi, questo è il mio tatuaggio. È un tatuaggio proprio rivolto alla musica perché per me è una passione veramente... che viene proprio dal profondo, cioè proprio me la sono messa sulla pelle da quanto è importante. Ah, ah, interessante, interessante. È rimasta a bocca aperta, Lila. Sì, 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 è molto incuriosita. Sì, sì, è molto incuriosita. Sì, è un buon punto. Lì c'è la bavetta. Eh, noi, allora, Simone, non so se lo sai, facciamo due manche. Questa è la prima manche molto diretta in cui la ragazza vede e ascolta quel minutino di presentazione e poi è uno swipe a sinistra o a destra, quindi è un match oppure no. E poi c'è una manche dopo in cui ci si presenta in modo più completo. Ok, quindi io dopo devo tornare. Posso farla subito la manche dopo caso dovesse ovviamente accettarmi perché... Sto facendo un sacco, sto comparendo in tutte le live di Tuvici Italia stasera. Porca troia, ok. E' veramente un dottanaio. Beh, allora, Lila, non farmi far brutta figura. No, ma te, ovviamente la scelta è di... Cioè, è di chi la fa. Cioè, nel senso, se non vuoi accettarmi, se vuoi swiparmi, swipami, cioè, in chill. No, no, ma certo, ma infatti Lila non è per niente tesa in questo momento. Prego, prego, fai pure la scelta. Lila, la scelta è tua, ok? Per me sì, ma non lo dico perché... Ed è un sì, ed è un sì, Lila! Brava, Lila, brava! Brava! Ok, ok. Ho ascoltato il consiglio di War. Brava, Lila, brava. È vero, preciso. Bene, bene. Se posso citare, comunque, è bello, comunque, che ci siano omiato 3 e 4 qui assieme a collaborare. Sì, 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 arriveranno anche il 5 e il 6, prima o poi. Sì, sì, prima o poi arriveranno un po' tutti gli omi. Assolutamente, assolutamente. Vabbè, quindi adesso si scopa, cioè, non so come funziona Tinder. Io non sono mai arrivato a questo punto di Tinder. Ah, perché li ha schifati tutti? Per ora ha schifato tutti i ragazzi e c'è una ragazza che invece... Sì, perché è un po' bi, è un po' bi. Ah, sei bisessuale, vabbè, ci sta. Ormai nel 2021 anche a me un po' piace il cazzo. Sì, sì, sì. Anche a me, quindi... Allora, la prima finita... Se poi vogliamo fare un altro round più avanti... Vabbè, magari lo faremo dire te, aggiungo. Certo, certo, mi piacerebbe. Certo, certo. Va bene, io ti ringrazio per aver partecipato e complimenti per la vittoria. Grazie, grazie mille. Sono molto soddisfatto della mia prestazione. Anche Lila penso lo sia. Ti sei soddisfatta, Lila, con Simone? Grazie, Lila, perfetto, perfetto, Lila, perfetto. Bene, bene, bene. Va bene, allora dai, ti saluto e ti auguro un buon lavoro. Grazie mille, grazie mille, Jumbo. Poi ci sentiamo per, ovviamente, fare il nostro Tinder. Esatto, lo scambio di favore di cui parlavamo. Un bacione e buona serata. Ciao, ciao. Grazie mille, buona serata altrettanto. Veramente gentilissimo chi me l'ha detto. Non me lo augurava nessuno dal 2005. Ciao, ragazzi. Perfetto. Ciao. Ciao. Ciao.